In provincia di Caserta l'Udc ha puntato molto su candidati radicati, su persone che conoscono i problemi della provincia. Dal giorno dopo in Parlamento bisogna affrontare concretamente soluzioni per dare risposte ai problemi della gente e occorre avere in Parlamento della gente che abbia capacità amministrativa e abbia dimostrato capacità politica. Gian Piero Zinzi e tutta la squadra dell'Udc di questa provincia rappresenta tutto questo. Tanti giovani ma anche persone con capelli più bianchi. Sì perché poi il Parlamento è la politica rappresentativa di tutti, giovani, meno giovani, ma soprattutto capacità amministrativa e capacità politica e trasparenza, questo sì, nelle scelte che noi abbiamo fatto. Ci auguriamo così con queste scelte di poter contribuire a far sì che ci sia davvero un Parlamento fatto di gente di un certo tipo e come dicevo prima, siccome il problema ha bisogno di risposte concrete, non di chiacchiere, perché una cosa è prima del 25, dal 26 e poi sarà tutta un'altra storia. Dal 26 e poi c'è bisogno di gente che dà risposte ai problemi della gente. Noi riteniamo che aver scelto Gian Piero, di rappresentanza non solo della provincia di Caserta, ma della campagna intera, penso sia un bene per tutta la campagna, perché sappiamo che dal giorno dopo comincerà a lavorare concretamente e come ho letto dal suo programma cercherà di risolvere i problemi di questa regione. Che risultato si attende in campagna dall'Udc? Come sempre di grande soddisfazione per l'Udc, un risultato a due cifre, come Udc ma come area di centro un risultato molto più forte. Il vero voto utile questa volta è al centro, non al centro-destra. Il centro-destra dovrebbe essere cancellato dal centro fino in giù, dal centro-sud. Un centro-destra che sposa ancora la causa della Lega. Con la Lega che chiede che l'IRPEF sia dirottata al nord, significa ancora una volta che evoca la secessione della Lega e che quindi dà un calcio a tutto il sud. Io mi auguro che questa volta davvero i cittadini del sud, quella gente di buonsenso, i moderati del centro-sud, si orientino sull'Udc, perché bisogna dare forza a chi con responsabilità in questi anni anche in Parlamento ha dimostrato di saper fare politica. Si sta parlando molto di alleanze post-voto. Secondo lei è corretto rispetto agli elettori già fare previsioni sul futuro governo? No, no, è corretto che ognuno si presenti con le proprie idee, con i propri programmi, rieffermi le proprie idee, la difesa dei valori che vuole portare avanti in Parlamento e i programmi che deve essere affrontato. Di coalizione bisogna parlare il giorno dopo se ce n'è bisogno.